Ueeh, non fare il pesce lesso! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, mamma mia, quante novità nel video di oggi per quello che riguarda il futuro di Fortnite proprio in questo mese di dicembre! Sono uscite da poche ore delle informazioni incredibili riguardante finalmente la Winter Royale! Lo avete chiesto in tanti, lo avete chiesto ogni giorno, Epic Games ci ha accontentato! Parleremo proprio della nuova modalità in duo che si svolgerà per tre giorni in questo mese di dicembre con un monte premi di 15 milioni di dollari! Una cosa veramente assurda! Parleremo però anche dei nuovi regali per tutti per un altro torneo, la CCFN, la Championship Fortnite, non me lo ricordo e la C sta per che caspita me ne so, non me lo ricordo neanche quello! Vi comunque dirò tutte le informazioni per ottenere i regali gratis per il vostro account! E ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite, parleremo anche di Battle Breakers! Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live dalle 8 alle 18 su Twitch! Grazie mille ragazzi per il vostro supporto e grazie a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator, xyuderone! Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi ai canali e soprattutto... ...attivate la campanella per non perdere nessune notifiche sui miei video! Ma prima, c'è la domandina che ve la devo fare, mi rispondete sempre in tantissimi qua sotto, ma oggi voglio che mi rispondiate pensandoci bene! Secondo te, quale cavolo è la storyline di questa season? Perché ho messo la schermata di caricamento della settimana numero 9 Ascesa del Caos? Perché secondo me il Signore del Caos c'entra con la storyline, già sappiamo che negli schermi che sta guardando ci sono tanti elementi che vanno a riprendere la skin segreta della season, gli alter ego, i punti dove recuperare i premi che ci hanno dato per l'outfit di Sorana. Secondo me ragazzi, nella storyline si parlerà degli alter ego e il Signore del Caos ci metterà lo zampino per far su un bel casino. Ditemi secondo voi qual è qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare di Battle Breakers. Perché ragazzi parliamo di Battle Breakers? Intanto lo sapete benissimo, videogioco per mobile, sempre di casa Epic Games, che da poco ha finito la collaborazione con Fortnite. Quindi proprio in Battle Breakers era possibile fare, ottenere, se non ricordo male, dei personaggi di Fortnite. Ricordo vagamente il Cuddle Team Leader. Però, tutti i giocatori di Salva al Mondo, arrivando su Battle Breakers a livello 20, hanno sbloccato delle skin appunto per Save the World. Ma ragazzi, appunto, ieri arrivano delle informazioni interessantissime. Mentre ne parliamo un secondo di quello che vi sto facendo vedere, vi faccio anche sentire un probabile music pack in arrivo. nel Battle Royale, nello shop, come background musicale, è il tema di Battle Breakers. Mentre ci ascoltiamo questa canzone che gasa veramente tantissimo, vedete che ci sono tanti oggetti nello shop. Senti che roba! Che voglia una canzone di background del genere? Patupatupatupatupatupatupa! Guardate ragazzi che bello! Sono state anche trovate altre skin, intanto come vi anticipavo, lì centrale, il music pack di Battle Breakers. sopra di me il vortex de feu in francese il vortice di fuoco il backpack il backpack invece di rasor della skin in poche parole che è già disponibile sul salva il mondo che sarà anche una skin non comune da 800 la skin invece epica curo omura veramente tanta roba con un pizzetto più lungo dei miei capelli e per finire nella parte più a destra la nuova copertura fiamma d'argento insomma ragazzi in battle breakers ci saranno tante cose che saranno disponibili finalmente anche per il battle royale e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi è già sono proprio loro ragazzi le winter royale o il winter royale insomma il torneo che verrà proposto da epic games direttamente in questo mese di dicembre non sappiamo ancora molto non sappiamo le date innanzitutto non sono ancora state rese pubbliche credo che se ne parlerà dalla patch di martedì prossimo e secondo me prima di natale ce lo fanno fare mi sembra un po strano che lo sparino dentro il periodo natalizio durerà tre giorni e sarà aperto a tutti quindi non c'è bisogno di tanti punti in arena non c'è bisogno di essere qualificati da nessuna parte possiamo partecipare tutti tre giorni ogni giorno 5 milioni di dollari di montepremi non sappiamo come saranno suddivise le varie manche round sappiamo solo che sarà in duo quindi ragazzi ovviamente non appena saprò qualcosa lo saprete anche voi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ecco qua dietro di me i due regali che vi avevo anticipato arriveranno già da oggi praticamente guardando le finali della cc fn su twitch attenzione si potranno ottenere oggi e domani uno spray e uno standardo come si fa ovviamente per ottenerli allora dovete innanzitutto associare il vostro account di fortnite con il vostro account di twitch è una cosa molto semplice praticamente se voi andate sul sito di epic games e fate l'accesso con il vostro account vi appare la pagina quella bianca con il menu sulla vostra sinistra andate nella sezione account e come vedrete apparirà tutta una serie di modi per collegare il vostro account con youtube con xbox con playstation c'è anche twitch da lì ragazzi cliccate il tasto blu vi rimanderà ad una finestra dove vi farà loggare con il vostro account di twitch e quindi potrete semplicemente fare l'associazione per capire che tutto è andato a buon fine quando guarderete qualcuno degli streamer che giocherà nella cc fn vi invito ad andare sul sito delle notizie di epic games per la lista completa qua sotto vedrete questa scritta dove sto indicando drop enable watch for a chance to earn loot quindi guardando lo stream per un tot di minuti come abbiamo fatto su youtube quando ci diedero i regali per le world cup ci daranno anche il primo regalo se doveste avere invece il problema come vedete in questo caso dove sto indicando non è collegato l'account apparirà direttamente un link quindi cliccandoci sopra potrete accedere alla pagina e ovviamente collegare il vostro account se riesco velocemente ragazzi vi mostro l'ultima cosa che è proprio una curiosità ve l'avevo già fatto vedere con la piccola patch di questa settimana da 11.21 in arrivo a rapide rischiose il camion chiamato galileo come vedete sta facendo la sua comparsa piano piano in queste settimane vedremo tutte le macchine di rapide togliersi non sappiamo il perché speriamo che ci sia qualcosa relativo ad un possibile evento e speriamo finalmente che questa season ci regali qualche emozione beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo anche per avere guardato il video di oggi mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao